Si chiama Firenze Superabile, la campagna di raccolta fondi online è presentata nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, che patrocina l'iniziativa, sostenuta da Fondazione Il Cuore Si Scioglie e Fondazione CR Firenze e ideata dall'Associazione Handy Superabile, per creare una guida del centro di Firenze con le informazioni sugli itinerari turistici accessibili a tutti, a chi si sposta su sedi a ruote, ai non vedenti, ma anche a famiglie con bambini e anziani. Queste barriere, di qualunque tipo siano, devono essere superate, devono essere parte del passato, in un momento nel quale la comunità non aveva attenzione verso questi temi. Noi li abbiamo assunti come elementi fondanti dell'offerta turistica della Regione. I fondi raccolti sulla piattaforma di crowdfunding Eppela saranno utilizzati per permettere a una squadra di operatori di ottenere tutte le informazioni sull'accessibilità delle strutture turistiche a Firenze, dai musei agli alberghi, ai ristoranti, ai trasporti. Noi vogliamo, con questa guida multimediale o cartacea, dare la possibilità a questi turisti con esigenze speciali di poter effettuare una visita, una vacanza in questa città meravigliosa, potendo godere del patrimonio artistico, storico e culturale, come gli altri e insieme agli altri. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la cooperativa Phil Crowd e al raggiungimento dei 20.000 euro, Fondazione Il Cuore si scioglie e Fondazione CR Firenze raddoppieranno la cifra per poter dar vita al progetto. Questa campagna fa parte di Firenze Crowd, che sono cinque progetti che sosteniamo come Fondazione Il Cuore si scioglie insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e che mirano appunto a dare un sostegno alla nostra città dal punto di vista della solidarietà, dell'aiuto a chi è più debole. Noi crediamo sia un'opportunità per il territorio, per far crescere le associazioni e per migliorare quella cultura, per creare delle comunità intorno a delle iniziative solidali come quella che andiamo a presentare oggi, che è un'iniziativa molto importante per permettere l'accessibilità ai luoghi di interesse turistico e non solo turistico, come c'è scritto nel comunicato, a chi è disabile. Parte dei fondi sarà utilizzata anche per la formazione del personale di musei e luoghi di interesse turistico che ogni giorno accolgono i visitatori.